Da domani sarà obbligatorio per il personale docente e non docente di tutte le scuole italiane il Green Pass per accedere negli istituti scolastici, è così? Assolutamente sì, la legge è in vigore, abbiamo l'obbligo di controllo giornaliero del Green Pass, per cui da domani mattina chi non ha un Green Pass valido è rilevato, chiaramente noi abbiamo predisposto nell'atrio, ma ogni scuola predispone il punto più comodo di ingresso, dobbiamo rilevare la validità del Green Pass per l'accesso a scuola, riguarda tutto il personale ATA, cioè i collaboratori, i bidelli come li chiamiamo, il personale di segreteria e tutti i docenti. Qui c'è l'obbligo e noi come dirigenti scolastici purtroppo abbiamo anche questa incombenza di rilevare giornalmente, fino al 31 dicembre, allo stato attuale, alla normativa attuale, la validità di un Green Pass per l'accesso a scuola. Se così non fosse, se il dirigente o il suo delegato, che chiaramente delegheremo con apposito atto formale, il dirigente o il suo delegato controlla nel caso in cui il personale scolastico non abbia un Green Pass valido, per cinque giorni sarà rimandato a casa e a cui noi gli dobbiamo intimare di adempiere secondo quanto prescritto dalla norma. Se nei cinque giorni di assenza ingiustificata lui non adempie, sarà, a partire dal quinto giorno, sarà sospeso dal servizio senza retribuzione. Questo ce lo impone la normativa vigente. Professoressa, ricordiamo invece che per gli studenti non c'è l'obbligo del Green Pass. Non è sancito l'obbligo, l'obbligo abbiamo detto solo per il personale scolastico, come l'ho indicato prima. Il 13 settembre riapriranno le scuole, siete pronti? Eh, è una bella domanda. Il 13, guardi, la scuola è pronta perché è prontissima. Il problema, non so se sono così pronti i trasporti e le indicazioni su eventuali slittamenti di orario che ci dovessero venire imposti per evitare gli assembramenti fuori, all'esterno della scuola, questo non ne abbiamo ancora contezza oggi. Per cui siamo un po' in affanno, molto in affanno, direi.